Un bacio a tutti gli utenti di Gossip News, un bacione. Non si smentisce mai Antonio Zecchila, da sempre amante della compagnia femminile, meglio se di bella presenza. La vita va vissuta per questo, se no uno lavora, suda per che cosa? Per godersi la vita. Io sono single, quindi, sendo single, sono sempre in compagnia di belle donne. Nella notte romana si diverte insieme alla biondissima e procace Valentina Ciccone, aspirante attrice. Molto carina, è una ragazza che frequento, molto carina, molto simpatica e molto spumeggiante, molto solare. Grazie per la visione!